PovSonic vuole limonare con te, Super Mario con dei testicoli enormi, gente che vomita tipo idrante Questi sono solo alcuni dei video più traumatitanti e presenti su YouTube Che io e Pocodongo, Cedia e The Pruld ci siamo raccontati Eh sì, quel The Pruld Ti hanno dato il volo Conto ciò in questo nuovissimo episodio di Tazze Caffè, il primo dolce animato di YouTube Italia Ah sì, il video potrebbe contenere immagini forti Quindi vi raccomando, like al video e più iscrizione, uguale un sacchetto per il vomito Eccoci qui Grazie mille per stare qui ragazzi, grazie mille Assicurati, grazie a te Volevi iniziare tu, Cedia? Io ho dovuto riscavare per ritrovare questa storia Stiamo parlando di uno YouTube talmente tanto primordiale Che le stelline, quel player brutto Ma è sempre collegata purtroppo alla mia esperienza da gamer Gamer? Gamer? Io ero uno di quelli tossici, insomma, che giocava a CSGO e giocava su Steam C'aveva quei banneroni, profili tutti colorati con le cose Visto il mio vecchissimo canale YouTube Che probabilmente era una cosa cringissima, terribile Perciò per il momento quel canale si chiamerà la sedia a zero gambe Quindi ero, cioè, solo così Ma la cosa interessante è che un tizio che ho aggiunto per fare gruppo su CSGO Russo Ovvio Mi manda il suo canale YouTube Ve lo ricordate, no? Sub for sub Mi iscrivo perché lui si era iscritto al mio canale E la prassi Voi direte, che cosa è successo dopo? Che cosa poteva mai essere successo? Perdo l'account E lo recupero dopo tantissimo, tantissimo tempo Andando a recuperare l'account Ho recuperato la lista delle iscrizioni Io riconosco quel vecchio account Oh no YouTube non era proprio regolamentato come oggi Dove praticamente se scorreggi in camera ti buttano giù il video Quel canale era diventato un raccoglitore di persone che vomitano Clip di 10-15 secondi, 20 secondi di gente che butta fuori l'anima C'era gente che faceva le idropompe proprio, guarda E c'è il futuro te che ti guarda da piccolo e fa tipo Forse non avresti dovuto farlo perché io ho dei problemi adesso e tu sei un idiota Precursore dei reel di Instagram praticamente Ve lo giuro Era una cosa terribile perché poi ovviamente i gameplay c'erano ancora Fra un vomito e l'altro Quindi praticamente tra un video e l'altro probabilmente YouTube ti consigliava Ehi ti piace questo gameplay di CSGO? Vuoi vedere questo video di getta che vomita? Ti è stata portata via l'innocenza Ma tante volte ti è stata portata via l'inserti Allora io vi racconto questa cosa ma tralascerò un solo particolare Si parla di video ma è tratto da un film Mio padre era un grandissimo fan di film storici di cavalieri Lui è un grande fan di questa roba qua Ma c'è stato questo film Parla di una squadra di vichinghi Devono proteggere un villaggio da una minaccia Non ben identificata della foresta vicina L'Inps Quindi qual è il punto? Si formano questa squadra per difendere questo villaggio E tu dici Dai chi viene attaccato a sto villaggio? Che cos'è? Che ansia? Che ansia? E c'è questa scena Inquiltantissima Che loro fanno finta di addormentarsi Aspettano questo attacco Avviene questo combattimento notturno E si vede palesemente che questi vichinghi vengono squartati in due Decapitati Ammazzati Atrucidati Macellati Niente fatto al computer Super horror Come si chiamava sto film? Aspetta Questo è il twist E nel dettaglio nascosto Il film si chiama Il tredicesimo guerriero Il tredicesimo guerriero È il protagonista Che in mezzo a tutti questi vichinghi A tutta questo sangue e robe È Antonio Banderas Il protagonista Ma completamente fuori luogo Però a me mi metteva un'ansia incredibile Cioè a me mi metteva l'ansia che c'era Antonio Banderas Antonio Banderas Ma perché non riesce a vederlo in quella circostanza Perché lui è proprio vestito da mulino bianco Cioè lui è pulitissimo Non ci posso credere Ma io pensavo che stavi per dire che ne so Che questi qua c'era il demone con un enorme pipo No è perché c'era Antonio Banderas Ma tu sei fuori Con le galline Faceva il pane in piede Allora io posso portare qualcosa Dall'antichità di YouTube proprio Facevo le superiori E mi ero fidanzato con una ragazza Che era un'amica di amici E loro sono sempre state persone un po' particolari Io li ho sempre associati un po' alla famiglia Adams Una volta abbiamo fatto una serata E tutti cominciano a dire Oh guardiamoci questo video Si dai è incredibile Salad Fingers Salad Fingers Ma è famosissimo Salad Fingers Che è una cosa trauma Allora Mamma mia lui Che ansia Ci sono un sacco di teorie su chi c***o sia lui Dicono che sia tipo un veterano di guerra che è impazzito E tutto quello che vediamo è una sua distorsione della realtà Madonna Cosa sto guardando Questo è tipo il suo amico Il suo vicino di casa Tiene i cadaveri Ci parla Ammazza le persone E continua a parlarci mentre le ammazza Ma lui è carinissimo È simpaticissimo È tranquillissimo Un'ora di video No ma perché è tutta la stagione C'è una stagione? C'è una stagione di sta cosa Ma cosa succede? Ma è terribile Ma non è niente Non è niente Ci sono scene molto peggiori No io quando lo vedi la prima volta ero sconvolto E decisi di lasciare quella ragazza Ho detto questi sono pazzi Mi immagino lui che mentre vede Salad Fingers Tutti quanti stanno a guardare Lui scappa fuori dalla casa Quindi tu sicuramente conosci i due lama no? Come no? Carl 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 stop Ma visto che siamo in fase zapping Io devo far vedere sta cosa Questo è il mio gritty pleasure Questo canale Meat Canyon Ah e c'è Vabbè Meat Canyon Questo va veramente schifo Però è bello Che schifo Mamma mia Che cosa disgustosa Ma che schifo E se ne va E c'è lui così Con la canzone che fa You really fucking suck Io adesso metterei una cosa sul piatto Che secondo me avete visto E questo l'ho visto Ma l'ho visto per colpa di Edo Mannaggia Ma chi è che non l'ha visto questo? E mi sa che io ci ho fatto un video su quella roba La scena della ragazza che si toglie il costume E' stato estrapolato Rendendola una pubblicità per siti di incontri E io quindi ci feci questo video Faci un collegamento incredibile E il fatto che sia traumatizzante E' bello perché E letteralmente il video in sé Che parla di quello No? Si ce lo vede l'artista che Dall'animatore fa Senti Fai Secondo me gli ha detto Quanto vogliamo fare schifo? E l'ho detto di sì 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 Vai mettiti Ma alla fine la mente Nel buasso Ma quella che è la bocca Ma lo manca Ma lo manca Ma lo manca Ma lo possiamo fare un braccio cazzo Che poi prende tu Sì 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 Vai Il braccio cazzo va benissimo Quello avete mai visto? Bambino crede di essere un fantasma Vero? La descrizione di questo video è Un simpatico bimbo Si cimenta nel passaggio attraverso l'armadio Io vi consiglio di alzare molto molto il volume Vi dimostrerò che sono un fantasma Vai facci vedere Volete vedere? Sì Il cameraman ha due anni Tappo? C'è il fratellino che fa Taffo Oh tappo Tappo E lui fa C'è una cosa che mi stranisce però Perché lui mette le mani Prima di schiantarsi la faccia Beh evidentemente il contraccolpo c'è perfetto No infatti no no L'ha presa tutta L'ha presa tutta Eh perché non sarebbe naturale Oddio L'ha presa tutta L'ha presa tutta L'ha presa tutta Scusate Oddio Si è deformato Vi butto in mezzo Sonic e Xe Vabbè C'era un altro gioco sempre di Sonic Della fandom malata Dove praticamente sono tipo 5 minigiochi diversi Ed uno di questi è Tu che sei sul divano con Sonic Giri la camera Vi guardate in faccia Lui si è avvicinato Tipo per darti un bacio Però i suoi occhi si fondono in uno solo Se tu entri Tipo teletrasportato dentro i suoi occhi E ti ritrovi in un letto di ospedale Dove c'è Sonic Che deve partorire C'ha la pancia gonfia Oh mio Dio E tu ci devi far cadere la roba sopra Però lui schizza fuori qualcosa Alla fine mi sa che partorisce Tails Che cosa succede? No, no Ma Keyplayers se la gode proprio Ma perché lui è pazzo Ah mi sa che si mangia pure Tails Si è mangiato pure Tails Parti mi sa Infatti è parte uno Eccolo che arriva Oh ma oh Cosa? Vabbè standard Sonic Aspetta aspetta Migliora Cosa sto guardando? Io non dormirò stanotte Bellissimo Io non dormirò stanotte Adesso io devo porvi un quiz L'11 gennaio 1961 Mamma mia Credo Sono nate le Anabuki Construction Inc Sembra l'inizio di una Lordi Fainette a Freddy Però ok È vero è vero è vero Ma ci sono animali nel mezzo Quindi più o meno Guardate che non siano robot animatronici No no è peggio Ottimo Questa ditta di costruzioni Credo giapponese La mascotte è questa bambina Che assomiglia vagamente a Cappuccetto Rosso Va bene? Anabuki Construction Tuttora presente Nel 2008 addirittura sono diventati leader nel settore di affitto di condomini eccetera Però 14 anni fa hanno deciso di fare uno spot pubblicitario Non voglio raccontarvelo Voglio farvelo solo vedere Ricordatevi l'azienda di costruzioni Va bene ci siamo tutti pronti? Costruzioni Andiamo Vai Paurissima Ma questo è inquidentissimo No sono Sono palle Sono palle Sono palle Come lo si spiega questa? Esiste il Tanuki È il crocione È il crocione in grado di trasformarsi E ha dei testicoli giganti Questa spiegazione ha senso Ma di là a un bambino di 14 anni fa Ma quindi scusami Mario quando diventa Mario Tanuki Dovrebbe avere delle palle giganti Dovrebbe avere delle palle giganti Dovrebbe Super Mario Got Bones Oh yes Doveva pure rimbalzarci volendo Tipo Salt Spark Ma per chi? Allora Io ho una cosa per voi Spero non siano enormi palle Perché io ho già fatto il pieno Io parlerei di un tramo un po' diverso L'emorroidi Volendo Volendo Preambolo Era su TikTok Ultimamente TikTok ha scelto Che a me piace La tv italiana anni 80 Vabbè Lui l'ha scelto L'ha deciso lui Mi è comparsa questa canzone Si chiama Elefante Gay Ed è tutto sbagliato E continuiamo con il nostro Ambrugino 1984 Il nickname Il nickname Ambrugino Una canzone di un elefante Un po' particolare Lo sentirete voi Io vi prego Dovete guardare il pallo Damn Guarda che roba È un Pokémon Wackadie Wackadu L'elefante gay Non più lui ma lei Il vizietto lui ce l'ha Il vizietto lui ce l'ha Il drop Il drop Guarda come applaudono No si No dai Vai Elefante gay La cosa più divertente di questa storia Che ha vinto No Non so cosa sia questa roba Ma Io l'ho scoperto poco prima Di entrare nel comune Per fare le dichiarazioni di matrimonio E Quindi si è entrato tipo nel comune Elefante gay E quindi c'è stata sta scena Con la tizia del comune Adesso vi devo leggere gli articoli E io in testa Elefante gay Hai un aneddoto da raccontare Legato al tuo matrimonio Fantastico Un aneddoto molto stupido Non poteva essere altrimenti Sergio Non poteva essere altrimenti